la parola che mi fa come dire presentare poi la collega che chiedo di visualizzare appunto e giusi sipione che rappresenta qui questo momento lo sportello autismo di ragusa che ho avuto anche lì la fortuna di incontrare costruire insieme con delle giornate formative ci siamo contaminati mi è piaciuto il coinvolgere i pari formarli naturalmente mi piace questa idea che poi condividerò alla fine di renderli coeducatori cioè dare voce ai compagni che possono come dire darci idee e sollecitarci come dire delle strade impensate quindi presento giusi giusi è una docente operatore di ragusa dello sportello autismo di ragusa è specializzata per le attività di sostegno alla scuola primaria ha un master su integrazione multiculturale e di alta specializzazione sull'autismo quindi è anche lei una collega in costante ricerca di come dire nuove strade è referente per l'inclusione componente del gruppo di lavoro operativo provinciale quindi anche delle è dentro a dei compiti sistemici quindi parlerà dell'approccio azioni per favorire l'inclusione nelle attività di accompagnamento alle scuole prego giusi grazie intanto di questa bella occasione che mi fa ritrovare te soprattutto e sono orgogliosa di questa cosa e quindi non posso che dunque aspettate un attimo perché devo aprire non so se voi vedete il condividi schermo colgo l'occasione per mentre giusi cerca di così di attivare il sistema di ringraziare veramente i docenti operatori che voi non vedete avete sentito prima la voce di margherita manzardo ma ce ne sono altri che stanno lavorando proprio con un senso di grande squadra sono colleghi anche di anzi sono colleghi di sportelli autismo diversi quindi cito a parte la parte tecnica che viene curata da filippo casarotto alessandro ventura abbiamo che stanno curando la chat e così per condividere con me che poi pongo le domande c'è appunto margherita manzardo dello sportello autismo di vicenza c'è gabbando natella dello sportello autismo di padova c'è mazzara di laura dello sportello autismo di vicenza c'è simona mondelli qui oggi dello sportello autismo di novara e c'è anche lo sportello autismo di belluno con katia barattine quindi grazie di cuore perché è attraverso il loro lavoro che sotto che non si vede ma che sta offrendo l'occasione di andare verso la meta giusta l'illustro un po' la l'onore che abbiamo avuto di partecipare da questo lembo della della sicilia dall'estrema provincia di ragusa è proprio quello di condividere con voi la nostra esperienza di approccio ed azioni per favorire l'inclusione nelle attività di accompagnamento nelle scuole l'idea guida che ci ha portato ad elaborare questo progetto e a condividerlo con voi è una sorta di linea di di tessitura di linea storica che ci fa percorrere ehm il nostro esserci nel territorio quindi le gli assi che guidano la nostra la nostra esperienza partono da una disamina storica cioè chi eravamo come siamo nati qual è stata il nostro eh la nostra ispirazione cosa ci ha cambiato nel tempo quindi qual è stato il nostro percorso evolutivo e poi la proiezione che ci porta a guardare verso il futuro traendo esperienza dal passato quindi in questa sede un po' vi narrerò eh l'esordio come la genesi dal duemilasedici al duemiladiciannove eh lo sportello spa nasce e si sviluppa qual è la cesura che ci cambia che ci fa ci costringe ad affrontare nuove modalità nuove strategie quello che ci portiamo dietro come bagaglio quindi la nostra capacità di resilienza dopo il covid diciannove e poi e poi due importanti esperienze che abbiamo vissuto all'interno della provincia di Ragusa e a cui abbiamo partecipato come spa eh ossia la ripresa della del potere del territorio che ritorna a essere fruibile dalla scuola quindi le uscite didattiche sul territorio e la loro gestione nel caso di alunni in situazioni problematiche e la partecipazione a dei concorsi anche questi proposti da enti territoriali eh dove la partecipazione forte di un bimbo con appartenente a una fascia di spettro autistico molto ampia ha ha reso possibile questo miracolo questo fenomeno e addirittura poi questa scuola la nostra ha ha vinto un premio per I like bike concluderò con delle riflessioni che poi voglio condividere con voi che si riallacceranno a quanto già è stato detto e che mi ha fornito delle suggestioni veramente interessanti e e importanti che ci guidano come fari nella nella tempesta verso le difficoltà che ogni giorno affrontiamo per operare eh anche in situazioni di di grande difficoltà noi nasciamo come rammentava come rammentava Claudia eh nel 2016 eh la nostra fonte di ispirazione è proprio Claudia nel senso che lo sportello autismo di eh di Ragusa si ispira al modello di Vicenza e e quindi fa proprio come tesoro questo voler essere attività di supporto e di consulenza per l'inclusione scolastica per gli alunni con spettro autistico. L'azione dello sportello in questo triennio che va dal 2016 al 2019 puoi andare avanti è proprio racchiusa nell'immagine che ho voluto condividere con noi che è quello che trovereste che Claudia ha visto questo bellissimo albero che fronteggia la sede dello spa di Ragusa eh che è un po' la sintesi del nostro percorso ben radicati a terra suggiamo l'humus della nostra esperienza delle nostre competenze delle risorse che via via abbiamo accatastato nel tempo per costruire in maniera bruneriana in maniera eh di di spirale proprio come il tronco di un albero che si arricchisce di anelli per poi produrre una chioma folta protesa verso l'alto e che possa andare verso il cambiamento inclusivo che poi è la parola chiave che tante volte è ritornata sia negli incontri che ho avuto il piacere di di seguire nei giorni passati ma anche oggi stesso cioè quello di dire che noi lavoriamo per i nostri alunni che noi costruiamo per loro percorsi di star bene all'interno di codici condivisi eh di amore mi ritrovavo mi faceva piacere allacciarmi a professore cottini quando ha citato un uso statico delle pex come dubbio eh come dubbio di qualcuno volevo condividere con voi l'esperienza proprio delle pex un bimbo con una grossa problematica comportamentale e con un bassissimo ricorso al linguaggio eh ha trovato modalità di interazione in una sorta di storytelling di come ordinare al ristorante per esempio quindi grazie alle pex lui riusciva a offrire un menu ai propri compagni e propri al gruppo dei pari con i quali faceva veramente inclusione nel gioco del ristorante quindi il bambino riusciva attraverso le pex che sono diventate poi un rituale a cui tutti ambivano a partecipare e le pex sono diventate strumento di gioco comune quindi come dire che la pex non si anima tutto sta poi a come noi gestiamo lo strumento tornando quindi alla nostra eh alla nostra strategia inclusiva alla nostra modalità di intervento sul territorio eh la linea guida principale era quella del peer to peer quindi del tutoring un circoletto di condivisione di esperienze di emozioni di competenze che però eh si basava fondamentalmente su tre assi cognitivi principali da un lato la consegna alfabetica cioè le competenze che ciascuno di noi operatori di sportello aveva maturato nel tempo e che offriva agli altri dall'altro lato il riconoscimento del bisogno dell'altro per cui una lettura a distanza di un bisogno un accogliere il bisogno del collega che poteva trovare una situazione di difficoltà e soprattutto a chiusura di tutto ciò quella consonanza emotiva necessaria nel momento in cui l'altro sente la vicinanza nella difficoltà perché quando incontravamo altri colleghi in una interfaccia paritario di sollecitazioni dove il rispecchiamento emotivo eh della eh dell'altra persona il guardarsi negli occhi l'osservare a distanza poteva consentire di trovare strumenti nuovi e strumenti diversi e funzionali alla risoluzione dei problemi possiamo andare avanti tutto questo all'improvviso è cambiato questa è una giornata destinata a restare nella nostra memoria perché sono state prese delle misure mai eh decise prima nel nostro paese seguendo il parere degli scienziati il governo ha dato il via libera ad una serie di misure molto drastiche che serviranno a contenere il virus perché il virus il coronavirus si sta espandendo nel nostro paese anche se dire che comunque il numero dei avete visto questa immagine credo che sia rimasta negli occhi e nel cuore di tutti noi e ci ha fatto tremare le vene e i polsi sicuramente in quel momento la scuola ha chiuso i battenti la scuola non ha non ha più potuto accogliere gli alunni e chi ne ha fatto le spese sono stati gli alunni più fragili gli alunni più deboli e la scuola ha rischiato ha rischiato di rimanere sullo sfondo e solo alla nostra capacità di resistenza di resilienza rispetto alla problematica che eh ci ha travolti in un mare procelloso di confusione normativa di incertezza eh di emergenza sanitaria mondiale ecco che nell'entropia mutuiamo questo termine dalla termodinamica e quindi dall'entropia scientifica siamo passati all'entropia psicologica per cui a fronte di tutte queste incertezze abbiamo fatto quadrato in che modo lo sportello ha mantenuto desta l'attenzione ha potuto consentire eh in un impoverimento di strumenti perché nel momento in cui in presenza riuscivamo a fare formazione nelle scuole riuscivamo a incontrare le famiglie in difficoltà ci spostavamo sul territorio rispondevamo alle chiamate riuscivamo a riconnetterci con eh tutte le risorse del territorio per fare formazione per utilizzare eh quanto più possibile la rete e la capacità di risorse insieme ebbene tutto ciò è cambiato e cambiato e assunto si è trasformato assunto altre forme e quindi siamo diventati operatori di prossimità la scuola ha ripreso la sua centralità con strumenti diversi e lì è stato questo ridefinirsi questo ridisegnarsi eh chat video call trovare risorse sulla rete sul web che potessero essere utili alle famiglie che si ritrovavano chiuse all'interno del loro alveo familiare e che non sapevano bene come attenzionare si sono dovute inventare una didattica che magari non conoscevano delle strategie delle metodologie e in questo lo sportello è riuscito ad intervenire e tante volte eh ci siamo resi conto di come fosse importante confrontarci su questa solitudine che altrimenti avrebbe rischiato veramente di farci perdere di farci allontanare dal senso vero della funzione della scuola soprattutto nel caso di bambini nello spettro che sono eh che hanno fatto della relazione della comunicazione del contatto corporeo il canale primigenio per il superamento del del proprio limite possiamo andare avanti quindi questi sono gli strumenti eh ed ecco qua il cambiamento eh finalmente eh cambia cambia qualcosa eh il virus sembra dominato eh ricominciamo a riaprire le scuole lo facciamo con strategie diverse con modalità diverse mascherine gomiti che si incrociano eh bimbi che imparano immediatamente a relazionarsi in maniera diversa finestre sempre aperte e la primavera incombe soprattutto in Sicilia potete immaginare come il sole il clima invitino ad un contatto sul territorio proviamo a rimetterci in gioco con le uscite didattiche e in questa scuola dove si pensa di organizzare una uscita eh a Siracusa il primo problema che si pone trattandosi di una classe dove sono inseriti due bimbi con due patologie importanti ma in particolare un bambino eh a basso livello comunicativo disturbi importanti del comportamento e eh atteggiamenti mh abbastanza aggressivi nei confronti eh dei pari che per due anni era stato deprivato della possibilità della socializzazione e quindi di un adattamento al contesto scolastico i primi dubbi che sono nati sono nati proprio negli adulti più che nei bambini quindi lì siamo intervenuti come sportello fortunatamente la traccia che avevamo lasciato e quindi la eh questa sorta di bricioline di contatto che non avevamo mai perso eh sono diventate preziose per riconnetterci e ritrovare questa circolarità di aiuto questo questo mutuo aiuto e quindi a questo punto nel momento in cui ehm ci siamo resi conto che era necessario rinforzare tutti innanzitutto il bambino e quindi offrire per quello che era nelle nostre conoscenze nelle nostre competenze offrire eh delle dei sistemi di video modeling eh qua avete un esempio di intervento potete vedere un esempio di intervento in K come diceva prima il professore Cottini tutte quelle strategie di cui poi abbiamo evidenze scientifiche eh in realtà sono eh le abbiamo tutte vissute sul campo ci siamo resi conto di quanto fosse importante innanzitutto la selezione dell'immagine perché ci fosse una socializzazione visiva del bambino con tutto ciò che andava a ehm a conquistare come spazio di autonomia e di e di serenità d'altro canto la necessità di simbolizzare per rendere facile immediato e scarno il contesto di acquisizione e poi il provare attraverso eh video modeling attraverso storie sociali per anticipare ciò che poteva accadere quindi il bambino ha seguito tutto un percorso formativo dove l'insegnante di sostegno ha trovato fiducia nella propria centralità è diventata regista di questo intervento le insegnanti curriculari si sono lasciate coinvolgere da questa cosa non preoccupandosi di che cosa potesse accadere abbiamo utilizzato una rivalutazione della figura della dell'operatore per l'autonomia e la comunicazione che sono queste figure emergenti che sempre più presenti e competenti adiuvano il lavoro all'interno delle classi e con loro grazie alla collaborazione di tutti e alla rasserenamento del genitore in quel caso avevamo un genitore singolo che aveva bisogno di staccarsi nuovamente dal proprio figlio perché per due anni il bambino era stato all'interno di un contesto protetto adesso doveva di nuovo lanciarsi in un mondo fuori e a quel punto è andato tutto bene come prima sentivo dire al bimbo a proposito del libro del libro virtuale ed è stato bellissimo è stata una gita splendida la magna grecia accolto questa comitiva di bimbi che sono tornati da questa esperienza con un bagaglio più ricco più umano più pieno di sensibilità di attenzione all'altro e di cura nei confronti nei confronti dell'altro quindi anche questa è stata un'esperienza che ci ha fatto riscoprire l'importanza della rete l'importanza dell'essere insieme di vivere insieme le esperienze di non sentirsi soli sul territorio e soprattutto di avere dei punti di riferimento chiari affidabili ma altruisti generosi disposti a rimettersi in discussione quindi aprire margini di confronto perché nessuno di noi ha delle soluzioni precostituite nessuno di noi può pensare di gestire tutto ma insieme riusciamo a riconnetterci al senso più profondo del fare scuola l'altra esperienza che vi volevo raccontare quella che arriva immediatamente dopo come vedete e p bike e anche questa è un'esperienza che si connette cronologicamente a questo a questo periodo siamo nel 21 22 abbiamo ripreso la frequenza scuola in presenza e un bimbo con nello spettro anche lui bassa basso linguaggio ma buone competenze buone competenze motorie e frequenti atteggiamenti stereotipici e violenza che andava incanalata atteggiamenti aggressivi e violenti contro se stesse e contro gli altri che andavano incanalati aveva già trovato come strategia grazie al docente di supporto aveva trovato l'utilizzo della bicicletta quindi l'imparare a pedalare acquisire questa strumentalità all'interno dei corridoi sicuramente un luogo contenuto ma trattandosi di una scuola eh che gode di spazi esterni molto piacevoli eh questa esperienza è diventato un concorso nel senso che il bambino dal corridoi chiusi dell'aula ha imparato ad andare in bici all'esterno e l'esperienza della bici della gara di bicicletta della eh di questa performance è diventata la la bici di tutti quindi se vogliamo vedere un po' l'inizio del video Margherita e poi la fine eh che proprio si vede Tommaso vedete questo è il contesto molto ameno della scuola se andiamo un po' più avanti ecco questo il contesto dove si è sviluppata l'esperienza intorno al terzo minuto potrete vedere Tommaso un po' più avanti fa le prime esperienze con la bici e ora qua abbiamo Tommaso e insieme a tutti gli altri compagni taglia il traguardo e come potete immaginare questa cosa ancora ci ci fa emozionare perché è stato un momento bellissimo in cui Tommaso si è sentito parte della non esisteva neanche il problema dell'inclusione perché eh gli operatori esterni che poi hanno partecipato a questa iniziativa che hanno proceduto alla premiazione non hanno percepito una differenza una distanza hanno percepito questi siamo noi e il mio collega e possiamo andare avanti che perché siamo alla conclusione e e vi stavo vi stavo raccontando vi stavo raccontando proprio questo cioè non hanno percepito che ci fosse un bambino eh con una speciale con una differenza con una peculiarità erano tutti bimbi ognuno con le proprie caratteristiche ciascuno con il piacere di godere di questo di questo momento insieme. Tutto questo ritorna in linea con quella che è l'asse che guida l'azione dello sportello dello sportello di Ragusa eh quello che mi premeva sottolineare in in questa sede è quanto sia importante l'unità di intenti la coralità la coesione e la capacità insieme di tracciare quel filo che lega che lega le persone eh partendo da da Tostoi che credo che sia un po' l'antesignano della pedagogia di Freire che anima la logica degli sportelli nazionali eh epistemologia teoria e tecnica sono questi tre assi portanti sulle quali si basa l'azione dello sportello ma poi alla fine tutto ciò che unisce è questo filo sottile che lega tutti nell'egida unica dell'amore degli uni per gli altri e quindi nell'aiuto che ciascuno di noi è disponibile a donare all'altro. Io vi ringrazio perché è stata veramente un'esperienza straordinaria ho avuto piacere di avere suggestioni e ancore di sollecitazione di approfondimento veramente interessanti e e mi auguro che sempre più spesso ci si possa incontrare tornare a essere vicini Claudia godere anche del piacere del tuo intervento formativo sui nostri territori perché è importante non solo incontrarci in maniera virtuale ma riscoprire il piacere di tornare a stare insieme grazie ancora. Grazie Giussi eh sì il toccarci guardarci negli occhi percepire le emozioni insomma nel momento eh di questi scambi hai concluso benissimo hai riassunto veramente con parole molto come dire pregnanti il senso il valore di essere a servizio della comunità di essere qui in questo momento quindi ti ringrazio c'erano ci sono così delle dei colleghi che nel nel hanno così mentre tu parlavi hanno sottoneato dei loro pensieri Ursula di Caro dice anche per noi insegnanti di bambini speciali è stato difficile comunicare ma ci siamo riusciti e Daniela Biancola Biancola non mi scuso se non pronuncio bene interventi molto interessanti grazie per tutto quello che state trasmettendo vi eh ecco quindi sì ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo collegando con le mani grazie a tutti Grazie a tutti.